Che cos'è una guida per l'alimentazione infantile? Una guida per l'alimentazione infantile aiuta a rispondere alle domande su cose e quanto dovrebbero mangiare i bambini. Le guide sono prodotte da una serie di fonti e possono essere trovate nei libri per genitori di bambini, negli opuscoli creati dal governo o dalle agenzie senza scopo di lucro, e talvolta da fonti più commerciali come le compagnie di formula. Molte delle guide sembrano abbastanza simili e saranno sempre le stesse informazioni o consigli e simili, i genitori dovrebbero pianificare la revisione di diverse guide e ottenere consigli dai pediatri sull'alimentazione dei bambini. Esistono diversi modi per organizzare una guida di alimentazione infantile. La maggior parte copre il periodo dalla nascita a 12 mesi, dividendo ogni sezione in diversi mesi. In genere la prima sezione è 0 o 4 o da 0 a 3 mesi. Le sezioni successive possono essere ciascuna di 2 o 3 mesi. Ogni nuova sezione introduce lievi modifiche alla frequenza con cui il bambino dovrebbe ricevere latte materno o formula e potrebbe suggerire modifiche alla dieta del bambino come introdurre cibi solidi. Non tutte le guide sottolineano una rapida introduzione ai cibi solidi, e quelle create da agenzie di difesa del seno impegnate sicuramente non lo fanno. Le raccomandazioni per i primi mesi nella maggior parte degli esempi di guida per l'alimentazione infantile consistono nel dare inizialmente latte materno o una formula appropriata, e una guida fatta da un'azienda di formula potrebbe suggerire i propri prodotti. Il suggerimento di marca o prodotto non è sempre appropriato. Occasionalmente, i genitori devono cercare formule diverse fatte da altre aziende se un bambino non sta tollerando bene un certo tipo di formula. Invece di indicare quante volte un bambino dovrebbe essere nutrito, una guida per l'alimentazione infantile fornirà in genere una gamma di quanto spesso dovrebbero avvenire le poppate. Alcuni potrebbero suggerire i fedings per ora, ogni due o quattro ore per i neonati, o suggerire il numero di poppate, 10 a 12 al giorno per 0 a 3 mesi. Le guide dovrebbero sottolineare che gli intervalli o il numero di poppate non sono sempre coraggiosi. I genitori dovrebbero ancora vedere se il bambino sta diventando abbastanza o sta alimentando la frequenza vicino agli intervalli suggeriti. In caso contrario, potrebbero discuterne con un medico. Se il bambino è costantemente in ritardo rispetto alle poppate consigliate al giorno, ciò potrebbe essere dovuto a malattia. Man mano che i bambini crescono, nutrono o allattano di meno, di solito mangiano di più a ogni pasto e iniziano a mostrare interesse per i cibi solidi. Una guida di alimentazione infantile può avere diverse raccomandazioni su quando introdurre solidi, quanto solidi da dare e tipi di alimenti da offrire. Poiché c'è una disputa su questo tema, i genitori dovranno trovare una guida che rispecchia al meglio le opinioni personali. Coloro che sostengono fortemente l'allattamento al seno possono trovare guide che sottolineano l'offerta esclusivamente di latte materno durante l'anno 1, ma questi non saranno utili per i genitori che vogliono introdurre i solidi prima. È opportuno valutare diversi esempi di guida per l'alimentazione infantile e consultare i consigli in conflitto con i pediatri. È importante notare che le guide sono solo delle guide e non sempre si conformano esattamente alle esigenze individuali di un bambino. I genitori non dovrebbero forzare il cibo su bambini non disposti. In definitiva, la migliore guida è rappresentata dalle visite regolari ai medici che confermano che il bambino sta crescendo e sviluppandosi a un ritmo normale e salutare.